Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con il meteo di TV6. Una nuova depressione atlantica e in un movimento verso l'Italia causerà un netto guasto del tempo nel corso di questo venerdì 4 marzo. Avremo precipitazioni diffuse sulle regioni centrali e in Sardegna, qualche fenomeno anche in Puglia, tempo più stabile invece al nord e all'estremo sud. Tanto sarà il centro Italia il settore maggiormente coinvolto in questa prima fase del peggioramento che poi proseguirà anche nel proseguo di settimana. In Abruzzo giornata invernale è instabile, avremo tante nubi per gran parte della giornata. Precipitazioni più concentrate nelle aree interne, quindi in Appennino con nevicate inizialmente oltre i 1000 metri, ma entro pomeriggio e soprattutto entro sera i fiocchi di neve raggiungeranno i 600 metri di altitudine, specie nell'Aquilano. Qualche piovasco lungo le coste però fenomeni non particolarmente rilevanti. Le temperature nuovamente incalano le massime in valori tra i 3 e gli 8 gradi, minima e stazionaria tra meno 2 e 3 gradi. Grazie per l'attenzione e a tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni